Buongiorno a tutti mi vedete in una condizione improponibile perché ho il viso rovinatissimo ho deciso di fare due chiacchiere mentre mi metto un po' di crema cerco di risolvere un po' queste questioni faccio questo video perché ho seguito in questi giorni nell'ultima settimana più o meno un caso che sta sconvolgendo il tubo ho visto vari video di ragazzi e ragazze su questo argomento twitter, vari messaggi facebook insomma addirittura sui giornali se ne è parlato una cosa proprio sia esteri che è esteri sempre tra virgolette che è italiani credo che l'abbia citato qualche quotidiano ne parlava un ragazzo di youtube scusatemi se in questo momento non mi ricordo il nome ne ha parlato buonissima insomma ne hanno parlato un po' di youtuber è il caso di quella youtuber inglese io tra l'altro di lei ho guardato qualche video qualche tempo fa onestamente poi avevo smesso di seguirla sto parlando di marina joyce è una ragazza normalissima avrà 24 25 anni più o meno il caso che riguarda questa ragazza è singolare perché stanno accadendo non so se avete già seguito qualcosa stanno accadendo delle cose strane sui suoi video delle cose strane che sono state interpretate da molti in molti modi anche perché dalla pagina ufficiale della ragazza viene viene tutto smentito cioè dicono che è tutto a posto che però lei stessa a quanto pare o lei o chi per lei gestisce la sua pagina lancia dei messaggi contraddittori forse per creare il caso cosa succede? sono successe delle cose molto strane messaggi subliminali all'interno dei suoi video apparizioni di mani mentre lei fa i video lei che io ho guardato un paio di questi video e in effetti sono abbastanza inquietanti soprattutto gli ultimi sono abbastanza inquietanti praticamente come se lei fosse manovrata tra virgolette come una marionetta da qualcuno qualcuno che in teoria è oltre la telecamera perché lei molto spesso guarda fuori fuori campo guarda oltre la telecamera come se io guardassi qualcosa qualcuno che si trova dietro il mio iphone e questa cosa ha messo in allarme tutti i suoi follower perché giustamente tutti dicono che cosa sta succedendo addirittura in un suo video io non ho sentito nulla in questo video sinceramente in un suo video l'ultimo video si sente sottofondo mentre lei parla una voce che dice help help aiutami aiutami inquietante io non ho sentito nulla l'ho sentito il video ma non ho sentito nulla allora alcuni addirittura hanno parlato del fidanzato che l'ha rapita che la 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 tiene in ostaggio per farle fare video forzatamente sarebbe una cosa assurda perché una persona che ne rapisce un'altra e la sottopone a delle violenze non la costringe a stare sul tubo a fare i video per ottenere cose esattamente cioè per ottenere soldi ma dai cioè signori miei è vero che quando si hanno tanti follower tanti che ti seguono sul tubo i guadagni sono maggiori ma una persona che ti rapisce ti sottopone a delle violenze non ti costringe a fare video su youtube cioè dai siamo sinceri addirittura si è parlato di del rapimento da parte dell'isis certo l'isis adesso si mette a rapire le youtuber ma di che cosa stiamo parlando è chiaro almeno a me personalmente questo è un mio parere personale come questa cosa sia una montatura perché guarda caso questa persona è passata da un milione di follower che sono tanti a un milione e novecento nel giro di una settimana cioè stiamo scherzando ed è chiaro che c'è del marketing dietro hanno voluto creare il caso così come si è detto si è avanzata l'ipotesi che questa persona soffrisse di schizofrenia uno schizofrenico a parte che la schizofrenia ha dei sintomi molto gravi di allucinazioni paranoide di alterazione della realtà cose molto se non stai sul video sul tubo a fare video se sei schizofrenico cioè signori miei non scherziamo allora si è detto che questa ragazza ha dei problemi perché improvvisamente mentre guarda la videocamera gira gli occhi e si spaventa sono tutte cose finte create ad arte per ottenere follower per ottenere visualizzazioni per ottenere seguaci per guadagnare più soldi tutto qua non possiamo andare a dire questa ragazza schizofrenica è stata rapita ma di che cosa stiamo parlando? una persona è stata rapita il fidanzato la violenta la sottopone a delle violenze però la tiene la costringe a fare video su youtube ma veramente siete dei bocci dei boccaloni dei boccaloni ora io non so sinceramente e sinceramente mi auguro per questa ragazza che questa storia finisca il prima possibile perché non è una cosa bella muovere muovere l'intero tubo per cercare di capire di non capire io mi auguro che questa persona smentisca le voci dietro questi video che ci siano delle spiegazioni dietro queste stranezze ma personalmente io non credo né all'una né all'altra ipotesi io credo che dietro ci sia altro ed è una cosa sarebbe una cosa disgustosa guadagnare sulla preoccupazione altrui che per quanto uno youtuber dici tu non è un familiare non è un parente ok però comunque ci sono delle persone che ti seguono e si preoccupano per te mi sembra piuttosto logico è un fenomeno molto naturale se domani tiro una youtuber a caso se domani Michelinia pubblicasse un video in cui dice che ha dei problemi io non la conosco non l'ho mai vista ce l'ho scambiato sia no due parole da che la seguo su facebook non mi ricordo comunque una roba così però io ci rimango male se lei ha dei problemi sta poco bene perché comunque è una persona che segue da tanti anni da prima che facesse real time nei lab e compagnia diventasse più famosa di come adesso di come era prima scusate perché perché comunque mi sono affezionata sempre tra virgolette a questa persona perché ricordiamoci sempre che dietro alla telecamera ci sono delle persone tutto qua oppure se Violetta Rox che è un'altra ragazza che segue da tantissimo tempo dicesse che ha dei problemi che l'hanno rapita permettimi io ci rimango un po' di merda quindi io mi auguro che ci siano delle spiegazioni che non ci sia veramente veramente il marketing dietro dei follower e delle view perché sarebbe veramente brutto veramente veramente brutto questo è quello che io penso riguardo la situazione perché non posso credere che una persona rapita una persona sottoposta a violenze o schizofrenica si metta a fare video su youtube cioè ma di cosa stiamo parlando eeeh questo è quanto no volevo specificare questa cosa perché perché ho seguito questa faccenda ho guardato qualche video ho guardato un video di istima che ha pubblicato che ha pubblicato l'altro ieri l'altro ieri non mi ricordo precisamente quando l'ha pubblicato però dico infatti io l'ho scritto sui vari video che ho guardato fatevelo venire il dubbio che possa essere tutta un giochetto di view di ma di visualizzazioni e di scritti perché guarda caso questo questo cosa è balzata da 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 che ne aveva già parecchi ha quasi il doppio di utenti sul tubo cioè è una cosa è una cosa che non ha non ha capo né coda secondo me perché non è non è possibile personalmente facendo corna dico personalmente se io dovessi diventare schizofrenica certo non mi metto a fare video su youtube cioè la schizofrenia è una cosa molto grave o si è parlato di droga io non io sinceramente non non trovo giustificazione non trovo senso non trovo non trovo nulla o è tutto uno scherzo perché non non trovo ora sto mettendo il fluido viso della benefit quel campioncino che mi hanno dato da sephora io adoro questa crema idratante che se riuscissi ad aprirla non riesco ad aprirla oh incredibile si è saldata con si è saldata ma è una congiura ci sono i fantasmi che mi impediscono di aprire questa cosa è incredibile ah ok ho capito perché ecco perché l'avevo avvitata male quindi faceva allora è molto 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 fluida il campioncino è piccolissimo ma tutt'altronde è una crema che costa tanti soldi quindi la signorina di sephora me l'aveva consigliata me l'aveva fatta mi aveva dato il campioncino perché la provassi perché perché francamente credo sperava che la comprassi ma sto mettendo se non mi finisce dentro l'occhio il gel di bottega verde quello per togliere le occhiaie più che altro perché lo devo finire perché non è che mi soddisfa particolarmente allora mi sto pulendo il viso sto facendo diciamo lo struccaggio tra virgolette di un trucco che non avevo adesso perché mi sentivo la pelle tirare parecchio nel frattempo come sempre sentirete i cani che giocano dietro di me ma è una condizione di naturale quindi questo è quanto ragazzi io ho voluto dare il mio parere di cui non fregherà assolutamente a nessuno però dico io mi sentivo di dire la mia d'altronde sul tubo ognuno dice la propria su questo è il mio parere trovo assurde le spiegazioni o le ipotesi perché fondamentalmente da lei spiegazioni non ne sono arrivate ci sono solo questi video o meglio sulle sue twitter sulle sue cose lei scrive tutto ok tutto ok tutto ok tutto ok però sapete poi cosa fa secondo me quando gli altri scrivono sui suoi tweet se hai bisogno di aiuto clicca metti mi piace lei sta a mettere mi piace quindi fa anche spaventare i suoi i suoi follower non lo so non trovo una cosa è veramente sta avendo dei problemi sarò la prima a dire ok ho pensato male sono una stronza ma sto prendendo la crema dietro della cosa perché vi spiego ho le ho la ricostruzione non sopporto che mi finisce mi finisca la crema sotto sotto le unghie dico io se veramente questa situazione è così come dicono come sospettano il rapimento dell'isis che si è a rapire le youtuber adesso adesso l'isis la nuova frontiera dell'isis rapiamo le youtuber cioè delle ipotesi veramente fuori dal mondo perché è molto seguita in inghilterra ok allora clio dovrebbe essere rapita dall'isis perché è molto seguita in italia ma di che cosa stiamo parlando cioè bisogna essere realisti nella vita questi queste teorie alla fahrenheit 9-11 cioè lasciano il tempo che trovano dico ok ci sono delle cose strane delle cose strane che sono successe durante i suoi video dei fucili addirittura dice che è comparso un fucile in video sono perfettamente spiegabili con una persona che sta montando un caso magari consapevolmente me lo voglio augurare però dico ci sono delle spiegazioni semplicissime che per quanto possano fare incavolare perché tu pensi una persona che tu pensi una persona che tu segui che non la pensi capace di fare una cosa di montare una cosa del genere però purtroppo tutti noi lo sappiamo il tubo è pieno di questa gente che monta casi che che crea fa dei titoli cosiddetti titoli a chiappa view quei titoli che servono per incuriosire io per esempio personalmente vabbè io non sono molto seguita lo dico sempre non ho molti follower non ho molte persone che mi seguono però non metto una cosa per acchiappare visualizzazioni nei miei video nei miei titoli perché non ha senso oppure un'altra cosa che fanno in molti mettono delle parole nascoste all'interno della sorgente pagina di youtube delle parole molto cercate sul tubo parole che contengono pornografia tette queste cose così perché in questo modo chi cerca queste cose sul tubo automaticamente si vede comparire i video e vengono aperti anche se tu non guardi tutto il video automaticamente se lo apri ti viene come visualizzazione queste io sono cose che trovo bieche sono mezzucci per ottenere visualizzazioni e non è questo lo scopo del tubo non è questo lo scopo di youtube secondo me secondo il mio modesto parere lo scopo di youtube non è questo quindi io vi do il mio parere su quello che penso riguardo alla situazione trovo troppo strano che queste cose stiano avvenendo sul tubo davanti agli occhi di tutti le trovo al limite del ridicolo anche le mere ipotesi che questa persona sia schizofrenica perché la schizofrenia non ti porta a fare video su youtube non ti rende in grado di fare video su youtube bene la mia la mia skin care tra virgolette è stata ho cercato di risolvere allora io ieri ho fatto una cosa che non dovevo fare mi sono mangiata due pezzi di pane con la nutella la nutella per me è questo però me ne frego e me la mangio ogni tanto questo è il risultato della nutella e ho la pelle tutta qua sotto tutta piena di bollicine quindi non so cosa sta succedendo ma probabilmente un po' di polvere bene quindi io vi saluto ci vediamo al prossimo video volevo fare l'applicazione dell'enne tra oggi e domani probabilmente lo farò domani perché avendo avuto un lieve per fortuna lieve mal di testa tenere l'indigofera tintoria in testa per due ore non mi sembrava il caso quindi vedrò come va domani purtroppo qui il tasso di umidità è molto alto quindi la mia cervicale mi bacchetta togliendo il fatto che sono un catorcio come sempre io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao